Benvenuti su Ultimora Gossip TV, prima di continuare ti invitiamo a iscriverti al canale per essere sempre aggiornato con noi, un gesto semplice ma per noi importante. Grazie. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa giovedì 2 maggio, si è scatenato un botta e risposta tra la tronista Ida Platano e l'opinionista Tina Cipollari. L'episodio è stato scatenato da una segnalazione riguardante uno dei corteggiatori di Ida, Mario Cusitore. Secondo la segnalazione, Mario sarebbe stato visto in compagnia di un'altra ragazza in un B&B. Ida Platano ha ascoltato la versione di Mario e ha cercato di difenderlo, ma Tina Cipollari non ha esitato a criticarla. L'opinionista ha accusato Ida di essere troppo ingenua e di non vedere la realtà. Ha sottolineato che Mario avrebbe cancellato le chat con la ragazza in questione e l'avrebbe avvisata della sua partecipazione al programma. Tina ha chiesto a Ida dove avesse la dignità e ha insistito affinché la tronista indagasse a fondo sulla segnalazione. La situazione è diventata tesa, con Mario che ha difeso la sua posizione e Ida che ha cercato di mantenere la calma. Ma la domanda rimane, dove si trova la verità? E cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? E tu cosa ne pensi? Lasciateci il vostro commento e iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati.